Settembre, tempo di ripartire, riaprono le scuole e gli uffici a pieno regime e c'è la domanda che da qualche anno a questa parte tutti ci poniamo. Il Covid rialzerà la testa e come? Dubbi che ci vengono chiariti dal professor Paolo Fazzi, direttore Unità Operativa Complessa Microbiologia e Virologia dell'ospedale di Pescara. Secondo lei potrebbe esserci un aumento dei contagi da Covid? Io purtroppo penso di sì perché quando si torna a vivere in comunità anche abbastanza chiuse tipo le scuole o comunque soprattutto le scuole è naturale che questa è una situazione che favorisce la circolazione di molti agenti biogini, in particolare dei virus o comunque dei microrganismi che si trasmettono nel via aerea. Questo è un dato di fatto storico che tutti i medici e tutti gli epidemiologi conoscono. La fortuna qual è? La fortuna è che questo è un virus che sta diventando sempre meno patogeno, quindi la circolazione verosimilmente ci sarà. Ci sono delle nuove varianti che sono molto infettanti, abbiamo visto Eris che è infettante, c'è questo Pirola che spaventa un po' la comunità scientifica che è molto molto infettante, però sembra che comunque siano tutti virus, ceppi e non particolarmente patogeni. La problematica sarà purtroppo a carico dei fragili. In particolare prosegue il professor Fazzi con la riapertura delle scuole. I bambini sicuramente potranno ammalarsi, infettarsi più che ammalarsi, qualcuno forse ammalerà ma di una flu sindrome banale. Il problema è che questi bambini faranno circolare il virus probabilmente nelle proprie case dove magari ci sono i nonni e magari i nonni anche fragili. Già avere più di 65 anni già entri in un setting di fragilità. Poi magari uno è portatore pure di alcune patologie che possono favorire l'infezione, in primis il diabete ad esempio. E pur vero prosegue che ci si può difendere dal virus con il vaccino e siamo alla vigilia della campagna vaccinale. Con questi vaccini revisionati rispetto a quelli a cui eravamo abituati, con i quali si vaccinava fino a poco tempo fa, e sono vaccini che dovrebbero tutelarci molto. Tra l'altro gran parte della popolazione ha avuto contatto con il virus, alcuni addirittura anche con malattia. Quindi tra vaccinazione e ricordo immunologico di una pregressa infezione barra malattia, è naturale che il microrganismo potrebbe trovare terreno non proprio facile per dare appunto patologia. Per dare ancora un segnale di ottimismo, sappiamo pure che se uno si dovesse ammalare ci sono degli antivirali specifici che funzionano bene, ci sono altre terapie. Oramai il mondo scientifico internazionale ha capito come trattare anche precocemente l'infezione e come gestire i malati.